Musica Salve a tutti Cosa? Eh salve Oddio ragazzi si mette già l'ansia Sto gioco dal menu principale Comunque salve a tutti ragazzi Sono Simo Sciocchi e benvenuti in questo nuovo Gameplay di Slender Sono qui con mio cugino Salve a tutti Riccardo E praticamente abbiamo attaccato le cuffie A uno doppio jack Ok entrambi abbiamo le cuffie per cagarci sotto insieme Perché se no avremmo fatto un casino Non sembra un gioco questo è un film horror Allora iniziamo Stargame Vai si inizia Un'auto Già l'atmosfera è tenebre Molto cupa Un'auto Si Parcheggiavo la mia auto Ho visto un gatto Per evitarlo C'era scritto questo Sono finito addosso a dei barili E poi è cascato un albero Si così diceva Si La benzina Ecco il gatto Caz Il caz Ah il caz Il caz Caz long Vabbè Ah ok allora siamo Abbiamo Abbiamo Stiamo inizialmente a giocare Praticamente allora Da permettere che non ho mai giocato a nessuno Slender Se non sul cellulare Quindi bene o male Io ho nessun gioco Quindi siamo Ok Quindi secondo me Mio cugino si cagherà sotto Dalla paura Si I tasti Cioè praticamente ho iniziato il gioco Sono arrivato fino alla fine di questa strada E non so più niente Alla fine o all'inizio? Alla fine di questa strada qua sotto Ah ok Lo vedrete nei gameplay Cosa ci sarà e cosa succederà Vabbè proseguiamo È una bellissima giornata Sembra una bellissima giornata Si d'estate Cacchio comunque all'inizio è sempre un film Blue Eyes Studios La musica è veramente figa Diretto da Diretto da Karma Code Simo Shock Simo Shock Ok Vabbè Simo Shock al canale In game io sono Karma Code Vabbè è uguale In association with Park Production Oh mio dio Ragazzi è veramente figa La grafica è assurda È assurda cacchio Un bel lavoro hanno fatto Direi proprio di sì Comunque è sempre un film Pure il movimento della telecamera È stupendo Sembra che Cioè Proprio in prima persona Sembra che lo sta vivendo dal vivo Che bei sassi Ecco sentono già dei passi Già siamo Oddio comunque Guarda Anzi anche di giorno Oh uno scuolo Che cos'è Una bella macchinetta Una G Cosa è una G C'è nessuno? Mi scusi Ho fatto un incidente per evitare un gatto Non è che può darmi una mano? Mi scusi Ma mi sa che Avrà fatto un incidente anche questo fa È morto qualcuno qui? L'ambientazione è veramente bella Anche abbastanza tetra Troy Neger Team Seton Justin Fiennes Allora No veramente è bello Allora Ecco qua Siamo arrivati Cioè davanti abbiamo Una casa Molto carina Molto carina Sta facendo notte ragazzi Sta facendo notte Sul cucuzzolo Della montagna Ok Ecco sì Io sento dei passi Detro di me Ma che cacchio è Un gatto Ok io sono arrivato praticamente Fino a quando ho visto il muro di cinta Alla sotto Quindi non so Qua cosa c'è Vediamo Wow Che bella casa Ho un garage Con un auto Possiamo usare l'auto Per andare via direi Uh la porta è aperta Beh i disegni Molto carini Sì è bello Li affreschi in casa Ecco il signor Slender Eccolo qui Facciamo un'intervista a Slender Praticamente Per questo Dedicato magari Chi non lo sa E anche Mio cugino In questo gioco Dovremmo essere Perseguitati Da questo Mone In Giacca e cravatta Che dovrebbe Ucciderci Quindi ci inseguirà Però non so Io so che sul cellulare Praticamente Dovevi raccogliere Delle Delle pagine Oddio La nostra ombra Ok Dovevi raccogliere Delle pagine Per completare il livello Mentre giravi Ti trovavi indietro Slender Tipo improvvisamente Con rumori strani Eccetera eccetera Sì Oh una torcia Ecco Già mi stai facendo Un bel piano Sì Devo dire che è un grande artista Ha fatto lezione Sì Appena si è diplomato Al conservatorio Di Milano C'erano delle scale Eccole qua C'erano eh Sì c'erano Ci sono Ok Facciamo allenamento Fisico Sali Completamente a buio Non mi piace questa cosa Hanno fatto shopping Mi dicono Dalla redazione Hanno fatto shopping Bene Cazzo Un'altra porta E' piena di porte Non aprire quella porta Un bel wc Sì c'erano di Il busto del Andranno Come cose Fai Sembrano Delle mutande Sì Era una Probabilmente Era una donna Molto attenta Sì c'erano di Sì c'erano di Una donna impaurita Che compra delle mutante Dove rasconderei Mutande Mutande Oddio Stai cazzo di chiave Oh ma questa porta Non l'abbiamo vista Ah non l'abbiamo vista No L'abbiamo vista? No No Ok E' tutto uguale Eccole qua Eccole Le nostre chiavi Finalmente Cazzo Ok andiamo ad aprire la porta Su via Su via Vandale ciancio Corri Ecco Inizia la musica Nulla di buono Nulla di buono Che tavolo c'è scritto? Can you see it? Oh Chi è? Oh Porca droga Niente di buono Una letterina Non ho letto che diceva Cazzo Veniva da lì Presumo dobbiamo andare Veniva dal bosco Andiamo Che cazzo era? Ma gli si Profewe Ok Andiamo nel bosco Ecco Oddio Oddio Questa musica sotto In sottofondo Caricamento Siamo già a 29 minuti di gioco Oddio non è possibile Praticamente Ok siamo qua Ok che dobbiamo fare? Non ci sa Vediamo subito Ma che cazzo di nuovo Di nuovo quel maledetto party È vicino ragazzi Oddio mette un'ansia sto gioco Che cazzo è? Una torre Una torre Una torre Un foglio No 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 no?? Eh si La solita storia Bisogna trovare Le otto pagine Le otto pagine Ottopagine? In che senso Simone? Spiegano Sono sei capitoli Se non sbaglio Questo Slender Spero non siano Sei capitoli di pagine Niente Bisogna trovare In questa mappa Apperta praticamente Un campo aperto, ci sono varie zone dove tu cammini in teorie come era sul cellulare quello che ho giocato io Devi trovare queste otto pagine per poter proseguire il gioco Ah, a quante pagine stiamo? Una di otto Bene, un camping Un campfire Un campfire Oh, 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 cazzo è? Ma che diavolo? È qui vicino, oh mio dio, non ho metto anzi a sto cacchio di cosa Oddio Che poi stiamo giocando al buio, in una stanza buia, quindi Sì, ma oltre questo con le cuffie al buio Sono le tre di notte Oddio, la musica è veramente inquietante Sembra un battito dal cuore Un'auto? Sì Com'è che aspetta è finito, è finito questo con l'auto qui Oddio Pagina Follow Due di otto Sì, grande Due pagine su otto C'è qualcuno che cammina vicino a noi No, ragazzi Oh, oh, oh Cazzo Cazzo è vero Oddio Lui mi sembra un agente immobiliare È vero Un'altra pagina, cazzo, un'altra pagina Vai, vai, vai Andiamo, andiamo, andiamo 3D8 Vai, vai 3D8 La musica si va più inquietante Ecco, la musica è proprio... Oh, cazzo Oh, cazzo Puttana, vaffanculo, vaffan... Mamma... Maledetto sto Mamma mia Ma tipo si rallenta quando ti vede Oh, cazzo Non si è abituato ai giochi oltre Ma non si riesce mai ad abituarsi Secondo me Oh, cazzo Oddio, ma io mi spav... Mamma mia Una canoa Oh, cazzo Eccolo, eccolo Eccolo Lo vedete ragazzi Oh Ma porca puttana No, no, raga Ma non stava dall'altra parte Ma non lo so Non lo so Si teletrasporta No, raga È veramente È veramente È bellissimo Oddio C'ho il batticuore Ti giuro Ho il batticuore È un bagno pubblico In mezzo alla foresta In mezzo alla strada Un'altra pagina Un pc Pagina 4 Eppure lui dovrà andare al bagno Eh sì, mi sembra Mi sono dove l'hanno messo Appositamente per lui Via Lui ti entra nella mente È sempre così 5 di 8 Eccolo Oh, cazzo Corri, corri, corri Ci ha preso No, no, no Sta cercando di possedere La nostra mente Tipo È il disturbo pure Dalla telecamera Ah, vabbè Togliano Lasciamolo È più figo Siamo a 34 minuti di gioco Allo slender Ci sta inseguendo No, raga Cazzo Cazzo Bello quell'abito però Da comprare Cazzo Ci sta inseguendo Corri Troia Corri Troia No, no L'atmosfera Sembra che No, no, no No, no Vi giuro che è un'ansia assurda C'ho il bacicuore Vi giuro che è un'ansia assurda Da vicino Mette paura Oh, cazzo Dove è? No, 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 no Corri Lasciaci, bastardo No, raga No, non ce la Dai, voglio trovare queste stramoledette pagine Non ce la faccio più Non ce la faccio più Oh, un'altra Ok, qua non ci siamo stati Alle otto pagine andiamo al secondo livello Cazzo Oh, cazzo Siamo dentro una casa Siamo dentro una casa Spero non venga qua dentro, cazzo Si è un po' stessato di noi Raga, non si capisce veramente niente Non si capisce veramente niente No, no Siamo morti, cazzo Siamo chiusi in questa stanza No Scappa E dove scappo? Dove scappo, cazzo Speriamo che non entra Oddio Ma siamo morti? No, siamo vivi No, siamo vivi Stiamo parlando No 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 Abbiamo trovato sei pagine su otto E siamo ancora inseguiti da sto bastardo Un lavoro Un lavoro Faticosissimo Abbiamo ricominciato Settima pagina Settima Settima pagina Speriamo di non morire prima Ma cazzo è vicinissimo No, no, no Basta Basta Oddio No, no Però porca miseria Ma corre più di noi Ma che cazzo Ragazzi l'ultima pagina Io non riesco a trovare Che poi Il bello O il brutto Non so Ma che ti compare così Alle spalle Ecco qua Vaffanculo Vaffanculo Io odio questo gioco Ho rifatto la stessa strada No E poi Ci insegue Praticamente Non possiamo fermarci Dove Non vuole che Eccola Dai 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 Ed ora Ed ora 8 di 8 8 di 8 Suspense 8 di 8 No Ma che cazzo Sono rimasta A bocca a terra Ma che succede? Ma che non lo so Basta Ma che diavolo succede? Abbiamo il fiatone Anche noi Sì Abbiamo passato il capito Ok ragazzi Troverete la seconda parte Tra Penso un paio di giorni Spero che il gameplay Ti sia piaciuto Spero Probabilmente la farei Con la mia ragazza La seconda parte Spero che non Cioè Non bisogna trovare Sempre le solite pagine Comunque in questo momento Lui è svenuto Allora Io vi saluto Perché sarà la prima E l'ultima volta Che ci vediamo È impartato abbastanza Comunque di nuovo giorno È una buona notizia Vi invito a seguirci Sul nostro sito Sul nostro canale di Youtube Simo Shock Sul mio canale Con Riccardo Che mi aiuterà Mi aiuta tantissimo A fare video Eccetera eccetera Noi ci occupiamo Soprattutto di Mi ha un regista Ci occupiamo soprattutto Di cortometraggi E siamo Io sono un regista emergente E lui è un attore emergente Anche Ha fatto anche una fiction Su Rai 1 Che andrà in onda Penso tra 6-7 mesi Vabbè Comunque Vi ringrazio Grazie a tutti Iscrivete al mio canale E Mettete mi piace Bravissimo Mi sei piaciuto Guarda Ti ho un momento Che mi piace Grazie Ciao ragazzi Grazie 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 a tutti